ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale sono peschio92 e siamo ancora su curve duty modern warfare 2 allora volevo fare una cosa che l'altra volta non vi ho fatto vedere allora le opzioni audio la grafica tastiera e mouse così potete vedere le varie impostazioni controller e impostazioni rapide interfaccia account rete e basta così adesso l'audio e allora degli effetti io lo porto e anche della musica ve lo porto basso perché adesso andiamo a giocare death match a squadre così vi faccio vedere un po il nuovo gameplay del gioco io ho fatto qualche partita anche perché vi sarete accorti dal video precedente e dalle armi appunto che hanno un po di esperienza con qualche accessorio sbloccato allora a me sinceramente piace molto considerato che io il code precedente non l'ho giocato perché non so mi era un po stancato sinceramente comunque con il cerchio muoro subito ci si abbassa e tenendolo ci si sdraia adesso io provo ok l2 r2 mi spara e l1 granata tattica r2 r1 scusate granata letale con il quadrato si ricarica adesso quest'arma è lenta ricaricare comunque va bene tanto c'è qualcuno io lo so e quando si crepa ci fa rivedere i crepedi come siamo crepati con il quadrato si salta potete andare su equipaggiamenti e selezionare se non vi va bene un nuovo equipaggiamento e con l1 r1 come potete vedere possiamo attivare una nuova abilità e io tipo adesso che ho questa telecamerina la metto lì se mi nascondo qua posso andare sotto la macchina ovviamente no però se ripremo l1 r1 adesso ho la telecamera e praticamente gli alleati vedono i nemici che io marco raggiungo questa zona allora con la freccia in su come vedete potete dire che andate lì se lo fate due volte e praticamente segnalate un nemico adesso io quello veramente non c'è quindi arrivato su quello che ho fatto e cancello sempre con la freccia in alto se premo l1 r1 di nuovo cambio telecamera penso che altri giocatori abbiano messo la telecamera e quindi me la fa cambiare se premo quadrato mi esce la freccia sinistra cambia la modalità di fuoco dell'arma adesso è a colpo singolo lo vedete sotto l'icona dell'arma c'è praticamente un manco mi ero accorto che c'era c'è un solo proiettile quello indica il colpo singolo mentre adesso faccio così vedete cambia ed è a 3 colpi quindi a colpo a raffica la freccia in giù e destra per il momento non mi sembra che servono a qualcosa e voilà sono aumentato di livello con l'arma adesso non fateci caso che sono un po' una schiappa ma a parte che sono anni che non gioco a code praticamente e poi non mi ritengo bravissimo soprattutto e allora cos'altro? ah qua c'ho una mina no se no mi ammazzi ok cos'altro dire allora si esplosivo aereo meglio nascondersi se premo due volte la levetta analogica sinistra mi fa lo scatto se premo il cerchio mi fa la scivolata dai che ti frego spero beh alleato cos'è un cecchino questo? dov'è? una carabina vediamo se riusciamo a provare sta carabina se qualcuno non mi ammazza prima wow allora ragazzi con i grilletti della playstation 5 che sono adattivi a ogni arma è una cosa fighissima proprio la sensazione è veramente figa ok ok ahia allora attacco con un mortaio per carità ok non vedo l'ora di prendere uno di quei fucili perché lo voglio non finisce più sto eh la mina te la sei beccata però non finisce più sto attacco molto lento a caricare ma abbiamo vinto quindi grande allora quando si vince adesso vi faccio vedere la schermata un riepilogo del punteggio uccisioni assist morti e rapporto uccisione morta di tutti dopodiché vi fa vedere diciamo com'è il vostro grado e quella dell'arma con quello che è sbloccata adesso io abbandono la lobby vado in armi vado qua mi sembra di aver visto un'ottica sbloccata esatto allora questo ha pregi allineamento mira di precisione difetti velocità modalità merino quindi quando si mira è più lento rispetto ad altri però ha l'allineamento di mira di precisione più alto rispetto ad altri oltretutto mi dà una portata maggiore infatti si vede poco anche la precisione però c'è un aumento di colore verde in quelle due righe anche se ce n'è uno di colore una lineetta di colore rosso in destrezza con questo aumentiamo la portata della precisione notevolmente c'è un zoom 4x ma di difetti c'è il riflesso del fucile di precisione è molto piccolo però il riflesso comunque c'è e quindi è un difetto velocità modalità mirino e velocità di puntamento in camminata quindi mentre puntiamo e stiamo camminando saremo più lenti nonostante ciò io prendo questo ci provo almeno allora il caricatore abbiamo questo che è una capienza da 100 colpi 5,56 però allora è vero che aumenta la capienza del caricatore ma aumenta anche il tempo che ci vuole per ricaricare infatti sta nei difetti come la velocità di movimento velocità di fuoco dopo scatto scusate e la velocità nel mirare perché comunque è pesante emulizioni niente allora l'impugnatura niente un calcio allora le modifiche che possiamo apportare un'arma le vedete in basso a sinistra modifiche 2 punti 2,4 vedete 4 su 5 quindi vuol dire che io ho un'altra cosa la posso aggiungere non possiamo ogni voce modificare sarebbe troppo allora io direi un calcio che aumenta magari per ora non c'è niente che mi aumenta la velocità per puntare allora facciamo un calcio e si si mettiamo quello per carità e basta cosa succede adesso se io volessi mettere un laser che mi dice cosa vuoi togliere al posto del laser togliere la canna la sottocanna il calcio e sotto al centro vi dice quello che fa quello a cui andate a cambiare tipo questa è l'impugnatura externa e a destra in basso vi dice quello che invece andate a mettere a sostituire quindi avete tutto sott'occhio direi di fare quasi quasi un'altra partita vediamo le sfide segui 5 eccisioni usando fucili tattici 3 eccisioni mine di prossimità le due eccisioni mentre hai poca salute quella è un po' più difficile ma anche tattici perché non li ho sbloccati quindi sarà complicato però ho visto che in giro si trovano mercato las almas non vedete una cosa se premete in questo caso il touchpad potete vedere la lista e mutare praticamente tutti oppure riattivare il loro audio se premete R1 vedete la mappa da gioco quindi quello ha il mirino termico se non ho visto male quindi è interessante di ricaricare ogni volta ma sbaglio lo so esaltivo aereo vicino a voi UAV nemico in volo c'è qualcuno qua eccolo ci colpesco naturalmente proviamo ad andare di qua sono con te giù 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 ok oh mio dio non ci sto capendo niente ma è come così queste cose che vanno a entrare a metà partita è veramente snervante quindi niente quella ve la fa vedere per forza ve la beccare e poi vedete qua potete vedere il profilo del giocatore che ho selezionato oppure riattivare la voce per tutti o no allora social no volevo provare canali progressi non l'ho fatto in tempo anche qua iniziamo a metà partita praticamente 32 28 per noi oddio voglio provare la pistola ho fatto un assist sì vabbè che succede signore cosa è una carabina un fucile a pompa cosa è va mamma mia che colpo qua dove si va è sempre lui grande ok ma fortuna c'era quell'altro dietro uav nemico attivo ah eccole eccole questo che c'è sto fucile il nemico in vantaggio uav alleato in zona ci siamo portati in testa abbiamo perso il comando lì ora io sono sicuro che arriva qualcuno da qua molto bene tanto lo sapevo che c'era lì però adesso lui sa che io sono qua siamo in vantaggio uav alleato online uav nemico in zona e anche nemico l'uav per chi non lo sa vedete nella mappa fa vedere a tratti la posizione dei nemici e non muore mai ce l'ho colpito io l'ho colpito quello sotto e vabbè aiuto che arma era questa uav nemico in volo no non mi piace due volte l'ho preso ah un'altra cosa che ho notato novità di gameplay sono gli appiglie adesso se ho modo ve lo faccio vedere chiaro le stiamo mettendo in fuga continuate gli nemici lanciano un esplosivo aereo overclock in funzione bella che mi sono accorto abbiamo vinto missione compiuta ottimo lavoro molto bene ecco la carabina ragazzi è fighissimo quel fucile è veramente fighissimo 4 uccisioni solo ma vabbè ce la gioco praticamente 5 volte dall'uscita non gioco da anni ragazzi quindi abbiate pazienza e voilà ragazzi è stato bellissimo ci vediamo la prossima puntata vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto come sto parlando non si capisce niente vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ecco vedi ci riprovo e viene meglio mi trovate su tutti i social tiktok facebook ludomedia instagram e ci vediamo alla prossima puntata ciao ragazzi